lo spirito di dio mi aveva istruita sul dolore del padre davanti alla corruzione di eva che aveva voluto avvilire sé creatura di grazia ad un livello di creatura inferiore era in me l'intenzione di addolcire quel dolore del padre riportando la mia carne alla purezza angelica col serbarmi inviolata da pensieri desideri e contatti umani solo per lui il mio palpito d'amore solo a lui il mio essere ma se non era in me arsione di carne era però ancora il sacrificio di non essere madre la maternità priva di quant'ora la abilisce era stata concessa dal padre creatore anche ad eva dolce e pura maternità senza pesantezza di senso io l'ho provata di quanto si è spogliata eva rinunciando a questa ricchezza più che dell'immortalità e non vi paia esagerazione il mio Gesù e con lui io sua madre abbiamo conosciuto il languore della morte io il dolce languore di chi stanco si addormenta egli l'atroce languore di chi muore per la sua condanna dunque a noi è venuta la morte ma la maternità senza violazione di sorta è venuta a me sola eva nuova perché io potessi dire al mondo di quale dolcezza fosse la sorte della donna chiamata ad essere madre senza dolore di carne e il desiderio di questa pura maternità poteva essere ed era anche nella vergine tutta di dio poiché la maternità è la gloria della donna se voi pensate poi in quale onore era tenuta la donna madre presso gli israeliti ancor più potete pensare quale sacrificio avevo compiuto consacrandomi a questa privazione ora alla sua serva l'eterno buono dava questo dono senza levarmi il candore di cui m'ero vestita per esser fiore sul suo trono e io ne giubilavo con la duplice gioia d'esser madre di un uomo ed esser madre di dio grazie a tutti